E' da poco uscita nelle sale la versione cinematografica del best seller internazionale 50 sfumature di grigio, primo episodio della trilogia firmata dalla scrittrice inglese E.L. James per la regia di Sam Taylor Johnson, notare due donne. E non sono mancate le polemiche, in particolare per l'ispirazione sadomasochistica alias BDSM delle pratiche sessuali del protagonista, il ricchissimo Christian Grey, impersonato da un adonico Jamie Dornan. Alcune associazioni lamentano il fatto che romanzo e film descrivano episodi di violenza come se fossero parte della routine quotidiana, mentre dovrebbero essere considerati veri e propri reati. Come si dice spesso, ognuno nel privato può fare ciò che vuole, ma sempre nel rispetto della legge e dei diritti umani. C'è da dire che il film non indugia così insistentemente su tutte le 50 sfumature della playroom del signor grigio, tanto che secondo gli esperti Christian è un dilettante. Fruste e frustini, anelli e lunghine, più adatti a una stalla che a una camera da letto restano per lo più appesi ai rispettivi chiodi. E la scena delle scolacciate punitive non è poi questa gran cosa. Per gli interessati è in commercio una crema lenitiva ad hoc. Rispetto ad altri prodotti in cui lo sfoggio della violenza sessuale è nudo e crudo, confronta i 100 colpi di spazzola dell'italiana Melissa P, ora espiante all'isola dei famosi, 50 sfumature di grigio ha una sua forza drammatica. Prima di tutto c'è il tormento del protagonista, che nell'adolescenza è stato iniziato al sesso da un implacabile dominatrix. E poi c'è il mondo dorato in cui Gray vive a Seattle, l'autista, un elicottero selcitato autista al giorno libero, un parco macchine da fare invidia a Maranello, un appartamento autopulente in cui il cibo appare senza che nessuno abbia fatto la spesa. Insomma, la storia d'amore alla cenerentola che tanto piace al pubblico femminile. Subito dopo le sfumature, in effetti, le stesse signorine e signore che a San Valentino hanno fatto la coda per gustarsi il ritratto di Christian Gray si immergeranno nella magia di Cinderella. Niente corse nei cieli qui e nemmeno uno straccio di contratto. Ci si rassegna a parlare coi topi e gli uccelli, a lavare i panni di trezzozzo e signore, piangendo e gemendo ogni notte in attesa di tempi migliori, che puntualmente arrivano e portano un lieto fine tanto stucchevole quanto l'azzurro pastello del vestito del gran ballo. Non sarà violenza fisica come sopra, ma anche questa povera sguattera, con la schiena a pezzi, costretta da una sconosciuta su trampoli di cristallo, non è certo il simbolo della quiete domestica. È la sua pigmalionica scesa ad appassionare, proprio come la redenzione di Mr. Gray, che grazie ad Anna impara ad amare davvero. Ci voleva ben altro per scalzare dal podio sadomaso la bella e la bestia.